Già Freud, ben prima di Lacan, aveva mostrato nelle sue opere come sostanzialmente il neonato, una volta venuto al mondo, desidera l'amore esclusivo della genitrice, dico lei che lo ha generato, per prolungare metaforicamente la condizione prenatale. Ed è l'amore della madre per il padre a dissolvere l'illusione nel neonato di tale esclusività dell'attenzione. Non senza sofferenze il bambino viene condotto per questa via alla maturità, cioè alla coscienza del limite, anzitutto al proprio limitato potere sulle cose. Il padre è l'immagine del nomos perché pone in essere il limite. Il padre, con la sua presenza, nega al figlio la possibilità di potere tutto. Il neonato vorrebbe godere illimitatamente, come è noto anche nei bambini, si riscontra questa tendenza per cui tutto ciò che desiderano deve essere loro e se non è loro scoppiano a piangere. Lacan dice che è la figura del padre che pone in essere il limite. Il padre è immagine vivente del nomos. Pone anzitutto il limite primo, come aveva già mostrato Freud, al desiderare incestuoso del figlio, perché il padre norma e disciplina il desiderio e insieme, come già si diceva, suscita la ferita del distacco nel figlio dalla madre. Il figlio si educa alla separazione dall'immediatezza e dall'esclusività del nesso con la madre. Prende coscienza del fatto che non ogni suo desiderio può realizzarsi in quanto tale. Ecco, in altri termini possiamo dire il padre, parafrasando Lacan, si oppone al soddisfacimento senza mediazioni del bisogno e fa valere la forza normante del limite. Se non vi fosse la forza del nomos paterno, come insegna la vicenda dell'uccisione edipica del padre, il desiderare non avrebbe più confini e investirebbe incestuosamente l'inviolabile per eccellenza, la madre. Freud lo metteva a tema, come sapete, analizzando la tragedia dell'edipo, dell'edipo tiranno, meglio tradurre con tiranno che non con edipo re, l'edipo tiranno che è la figura del figlio che uccide il padre Laio, simbolo della legge, e che ucciso il padre, quindi la misura, gode illimitatamente in maniera incestuosa della madre. Tolto di mezzo il padre non c'è più il limite e quindi il desiderio del figlio si proietta in ogni direzione facendosi mortifero. Il godimento mortifero senza legge non produce la libertà, come oggi sembra suggerirci la società edipica del tutto e subito. Senza la legge il desiderio diventa mortifero. Lo chiama proprio così Lacan, godimento mortifero. Il vero desiderio è quello che si incarna in un rapporto con la legge. La legge non deve sopprimere il desiderio, ma deve direzionarlo a ciò che diventi fecondo e produttivo. Il vero desiderio è quello che si incarna in un rapporto con la legge.